Il melanoma può avere una mutazione che è legata proprio alla crescita tumorale che è la mutazione di BRAF. Questa si presenta nel 50% dei melanomi e ha un'implicazione terapeutica perché esiste un farmaco che inibisce specificamente questa mutazione, quindi inibisce la proliferazione delle cellule tumorali e possiamo quindi applicarla nel caso in cui la mutazione di BRAF sia positiva. Nei pazienti ad alto rischio, che sono quelli in terzo stadio, cioè che hanno sviluppato contemporaneamente al tumore primitivo o in un secondo tempo le metastasi ai linfonodi regionali, noi avevamo necessità di un trattamento perché sapevamo che in larga parte questi ricadevano. Grazie all'individuazione della mutazione di BRAF sul tumore primitivo o nella metastasi al linfonodo regionale, noi possiamo quindi adesso avere una terapia per questi pazienti precauzionale per evitare che possano sviluppare metastasi a distanza. Il test di BRAF deve essere eseguito sul melanoma primitivo o sulle metastasi appunto i linfonodi regionali proprio quando sia necessario intraprendere un trattamento adiuvante. Da qui l'importanza di una collaborazione tra l'anatomia patologica e la biologia molecolare, l'oncologo medico e il chirurgo che opera il paziente, per avere in tempi brevi questo tipo di valutazione. La valutazione viene fatta nello specifico dal biologo molecolare a cui l'anatomia patologica invia il tessuto e deve essere indicata la richiesta da parte del chirurgo che opera il paziente. Altrimenti quando il paziente arriva alla visita oncologica e deve ricevere il trattamento è passato troppo tempo per chiedere in modo retrospettivo questa valutazione molecolare. Quindi c'è una grande sfida in questo momento in atto, abbiamo un farmaco efficace che può inibire la mutazione di BRAF, dobbiamo assolutamente imparare a collaborare in un approccio multidisciplinare per ricevere l'informazione sul tessuto del tumore e quindi riuscire in tempi utili a fare questo tipo di trattamento. L'AIFA ha appena approvato la terapia con dabrafenib e trametinib che sono gli inibitori appunto della via delle mapchinasi, quindi della mutazione di BRAF per un anno nel paziente in terzo stadio radicalmente operato. Questo cambia completamente la prospettiva di vita dei pazienti perché sappiamo che un solo anno di terapia adjuvante, peraltro una terapia orale quindi molto facile da assumere per il paziente e anche da gestire nel tempo, riduce della metà il rischio di ricaduta a 4 anni e fornisce una sopravvivenza dell'86% dei pazienti a 3 anni. Un dato davvero sorprendente se pensiamo al passato in cui quasi tutti i pazienti ricadevano dopo la presenza di metastasi e linfonodi regionali. Per ora questo tipo di strategia terapeutica era applicata solo ai pazienti nella fase metastatica con grandissimi risultati anche in questa fase, ma purtroppo senza un limite di tempo. Noi sappiamo che dabrafenib e trametinib in fase metastatica non ha una fine, nel senso che i pazienti lo assumono per anni. Grazie all'approvazione nel terzo stadio, noi possiamo finalmente dare non solo un aumento della probabilità di guarire i nostri pazienti, ma anche dare un tempo definito di terapia, pensando poi al fatto che spesso sono pazienti giovani, quindi hanno tutta la vita davanti, devono ancora avere figli. Il fatto di poter fare una terapia per un anno non preclude assolutamente poi una vita normale nel futuro.